Grazie a tutti. Ragazze, buon pomeriggio! Ma quanto è bello prendersi cura del proprio corpo, del proprio benessere e decidere di appunto concedersi una giornata di coccole. Allora, io oggi ho deciso che dopo l'allenamento appunto farò una bella doccia e siccome ho una serie di creme che voglio provare, questa qua che è quella fior di magnolia che ho preso all'Eurospin, come vedete è un trattamento rassodante corpo. Poi ho invece un bagno crema, quindi questo è diciamo così un bagno schiuma piuttosto cremoso, quindi non farà granché di schiuma ma è proprio una specie di latte. Poi voglio provare questo di natura verde, scrub corpo, quindi dopo la doccia con questo bagno crema farò questo scrub. Poi voglio applicare questa crema per il corpo, questa è per pancia, glutei e cosce. In realtà io poi avrei altre creme per il corpo, però una volta che applico questa su pancia, glutei e cosce mi fermo. Poi metto questa buonissima crema che ho preso all'Idele, vi ho fatto vedere al 99 centesimi con un profumo buonissimo perché si riporta al profumo Mademoiselle Chanel, questa appunto l'applico sulle mani e poi per finire ho pure questa crema per i piedi della Sienne. Ho fatto la pedicure da poco, quindi ho il piede bello liscio, mi hanno tolto appunto quella pelle secca che si fa nei talloni, quindi oggi mi va di applicare anche questa crema nei piedi. Per i capelli intanto mi sono preparata quest'olio che si applica appunto sui capelli dopo lo shampoo, si può applicare sui capelli bagnati oppure si fa la piega e poi si applica. Io di solito l'applico con i capelli bagnati, naturalmente solo nelle lunghezze alla base non metto nulla. Ok, quindi oggi mi dedico queste coccole, come vedete con poco ci si può non dire che siamo, stavo dicendo ragazze, non possiamo dire di essere state in un centro benessere, però insomma quattro coccole ce le possiamo concedere anche con poco.